Luca e Ivana innamorati, la foto che conferma la storia d'amore Gossip Grande Fratello Vip, tra Luca e Ivana è nato l'amore, arriva la foto ufficiale. E amore tra Cancelletto Luca Onestini e Ivana Marazzova, entrambi i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, video virgola in onda quest'anno su Canale 5 All'interno della casa più spiata d'Italia avevamo visto che tra Cancelletto Luca e Ivana c'erano stati dei timidi tentativi di approccio, anche se la ragazza non si era sbilanciata mai più di tanto perché aveva una persona che la stava aspettando fuori dalla casa di Cinecittà, con la quale aveva cominciato una relazione poco prima dell'inizio del reality show E amore tra Luca e Ivana, arriva la foto conferma dopo il Grande Fratello Vip Alla fine, però, Ivana ha mollato questa persona che per tutta la durata del GF Vip ha fatto perdere le sue tracce e una volta usita dalla casa ha preferito voltare pagina e andare avanti, ripartendo proprio da Luca Onestini L'ex tronista di Uomini e Donne, che nella casa del Cancelletto Grande Fratello Vip venne lasciato in diretta dalla fidanzata Soleil Sorghe, è riuscito a far capitolare la bella Ivana Del resto si era già capito che tra i due ci fosse una grande alchimia e un certo feeling che prometteva bene in vista di un'eventuale storia d'amore futura e alla fine è stato proprio così Tra Luca e Ivana è nato l'amore e in queste ore è arrivata anche la prima foto ufficiale che testimonia la nascita di questa storia Le gossip news di oggi, infatti, rivelano che Luca e Ivana sono stati paparazzati dai fan in giro per le strade di Milano mentre si concedono una passeggiata mano nella mano proprio come due fidanzati a tutti gli effetti Ed è proprio in questo emeodo, quindi, che la coppia Luca e Ivana ha ufficializzato il loro rapporto che adesso si può dire che sia diventato ufficiale a tutti gli effetti Ecco la foto postata sulla pagina Instagram di Isa e Chia Nuovo impegno tv per Ivana Marazzova su Italia 1 I due, infatti, non si nascondono più e vivono la loro storia alla luce del giorno, video, non si esclude, quindi, che al più presto possano anche essere ospiti in qualche trasmissione televisiva per annunciare ufficialmente la nascita della loro relazione dopo il reality show di Canale 5 Prossimamente li vedremo a Verissimo oppure a Pomeriggio 5 nelle vesti di coppia a tutti gli effetti In attesa di scoprirlo vi segnaliamo che dalla prossima settimana la bella Ivana Marazzova sarà impegnata con la nuova trasmissione di Italia 1 dal titolo 90 special con Nicola Savino, durante la quale la vedremo nelle vesti di Valletta Tra i presenti in studio ci sarà anche Cristiano Malgioglio Tra i presenti in studio ci sarà un'ottima settimana